Che dici tu, catalano? In una serata così particolare, io vorrei porre l'indice su una cosa molto importante. Oggi si è parlato molto, ma non si è detto tutto. Cosa è successo oggi? Ci sono state queste votazioni. Qual è stato il risultato più importante? Alcuni partiti hanno avuto un progresso e altri hanno avuto viceversa un regresso. E chiariamolo, perché questo tu ti domanderai perché. E se lo domanderanno anche milioni di ascoltatori. Perché? Hanno avuto più voti di altri partiti. Quelli che hanno avuto di più. Di conseguenza che è successo? Alcuni sono andati avanti e altri sono andati indietro. E qui vorrei concludere dicendo una di queste massime che ormai stanno facendo il giro d'Italia e che a me vengono molto spontanee. Non mi devo sforzare. Mi vengono così. E cosa? Il mondo è fatto a scale. Chi le intende? Vedo che in mezzo a tante telenovelas cominciate a capire. Ecco, frate, mi dica.